Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Non ci siamo ancora svegliati dall'incubo, sapere che chi ha ucciso Ugo Masucci è ancora un uomo libero, non ci fa dormire, così anche stamani i residenti di Contra d'Archi ci hanno rivelato il terrore di cui sono prigionieri, soprattutto da quando in una gelida mattinata di dicembre venne rinvenuto cadavere in una villetta della contrada a ridosso della città ospedaliera, il cadavere della 73enne professionista avelinese. Sarebbe importante, avvertono gli abitanti, anche conoscere la dinamica della tragedia, se si è trattato di una tentata rapina. Ci sentiremo tutti ancora più in pericolo, una ferita, quella della morte del dentista mai ricucita, uno squarcio lacerante che grida ancora la giustizia. Il raid è venuto l'altra sera nella villa di un vicino di casa di Masucci, è stato l'ennesimo flashback per una contrada che ormai vive blindata dietro i cancelli delle abitazioni dotate di dispositivi di allarme, telecamere di video sorveglianza e cani da guardia. Riccardo Piccariello risiede con i genitori a Contra d'Archi, anche la sua casa anni fa è stata visitata dai ladri. È normale che una zona come questa, fatta da villette più o meno belle, più o meno ricche, senza però un po' di illuminazione, senza la manutenzione normale, quotidiana che si dovrebbe fare, è normale che viene lasciata in balia di malintenzionati. Si vive comunque blindati, comunque con un'attenzione in più. Sì, sì, c'è sicuramente un'attenzione in più, magari qualcuno può lavorare sugli infissi, sulle porte, però più di questo purtroppo non si può fare, perché poi queste zone sono comunque molto grandi e potenzialmente, insomma, neanche con troppa difficoltà si può entrare nelle case. Ripeto, secondo me se si lavorasse, il Comune lavorasse sull'illuminazione pubblica, ma non solo, anche su tutta un'altra serie di servizi quotidiani, credo che la situazione possa cambiare.